Ci sono voluti ben dieci round di negoziati per riuscire a dare il via alla normalizzazione dei rapporti tra la Serbia e il Kosovo, ma alla fine a Bruxelles il primo ministro serbo Ivi Kadacic e quello kosovaro a Simtaci hanno siglato un'intesa sotto l'occhio vigile dell'Unione Europea che ha avuto un fondamentale ruolo di mediazione. Voglio congratularmi con i due leader per la determinazione e il coraggio che hanno mostrato in questi mesi. Quello a cui stiamo assistendo è molto importante, per loro è un passo più lontano dal passato e un passo più vicino all'Europa. Si è espresso così l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Catherine Ashton commentando l'accordo con cui di fatto Belgrado e Pristina hanno accettato di non ostacolarsi nei rispettivi percorsi verso l'integrazione europea. Un risultato questo che segna anche un tassello fondamentale per un'eventuale futura adesione del Kosovo alle Nazioni Unite. L'intesa raggiunta ha anche lo scopo di regolamentare la situazione della minoranza serba che vive nel nord del Kosovo e che adesso passa sotto la tutela ufficiale di Pristina conservando però alcune importanti autonomie.